Tastiera RGB da gaming, Logitech G213, cosa sarà mai? Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Negli ultimi mesi sta aumentando la mia passione per le tastiere ed è per questo che ho deciso di acquistare la Logitech G213, una tastiera da gaming RGB. In questo video vedremo l'unboxing del mio nuovo acquisto, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing vediamo un attimo la confezione. Qua abbiamo l'anteprima della nostra tastiera che è una 100%, il modello G213, Logitech, la tastiera è in francese, con layout francese, Light Sync RGB Gaming tastiera. L'ho trovata in offerta su Amazon, non volevo farmela scappare anche se ha il layout in francese. Nella parte destra abbiamo il brand Logitech con la nuova G per il gaming e qua vediamo la parte posteriore, kill, planning, RGB, qua abbiamo l'anteprima con la colorazione multi RGB, il cavo per collegarla al PC e qua abbiamo un po' di caratteristiche. Il mio francese purtroppo è un po' arrugginito, ma vedremo tutte le caratteristiche... Il mio francese purtroppo è un po' arrugginito, non vi preoccupate, vedremo poi tutte le caratteristiche nel video dedicato con la recensione. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e la andiamo ad unboxare in questo modo... così... veramente gigante... eccola qui... la tiriamo fuori... vediamo cosa c'è contenuta ancora nella confezione... adesivo di Logitech, manuale... e per il resto non c'è più niente... mettiamo la scatola da parte... veniamo al nostro pezzo forte... ok andiamo a rimuovere la pellicola... la tastiera è un po' impolverata... si presenta in questo modo... è già integrato il poggia polsi... dopo vi farò sentire anche l'audio per i tasti... qua abbiamo il logo Logitech che probabilmente si illuminerà... la tastiera come vi dicevo è retroilluminata... il layout è francese... vediamo anche la parte laterale... ok qua abbiamo il modello G213... nella parte destra non è presente niente... ha questa piccola inclinazione... vediamo anche la parte posteriore... tastiera con cavo... questi dovrebbero essere dei piedini... esattamente per poter rialzare la nostra tastiera... gommini in plastica... che ci permettono di non farla scivolare... e qui abbiamo questa trama... qua abbiamo di nuovo il logo Logitech... vediamola meglio nel dettaglio... tasti F... nella parte superiore... qua abbiamo maiuscolo... blocco del maiuscolo... scroll... e game mode... qua abbiamo... un altro tasto che poi vedremo più avanti... qua possiamo... decidere di modificare o cambiare probabilmente i led... mutare il volume... abbassare... e aumentare il volume... play... stop... traccia avanti e traccia indietro... quindi... è anche dedicata... per una parte di... ascolto dell'audio... frecce... e tastierino... numerico... a questo punto direi di... andarla a collegare subito... prendiamo il nostro cavo... la andiamo a collegare... si è automaticamente... illuminata... il cavo l'abbiamo fatto passare intanto da questa parte... si ha un cambio automatico... degli... RGB... ve lo faccio un attimo vedere... adesso siamo passati... al viola... vi abbasso un attimo la luminosità... così... potete verificarlo... siamo passati al giallo... al verde... bello questo effetto... arcobaleno... vediamo premendo il tasto cosa succede... ecco... qua possiamo disattivare... con il tasto... e riattivare... qua abbiamo premuto... quest'altro tasto... che è la funzione di Game Mode... che poi vedremo... nella recensione completa... vi faccio vedere anche... il logino... di Logitech... che cambio colore... insieme... alla tastiera... vi faccio vedere... vi mostro anche... di notte... l'effetto che fa... sulla postazione... qui considerate che siamo... completamente al buio... c'è ragazzi che figo... è presente al rilievo... il logo di Logitech... la G... anche nel cavo di alimentazione USB... piccoli dettagli... che fanno la differenza... vi faccio sentire adesso... come suonano i tasti... sì ma... l'ergonomia... è comoda per scrivere... è arrivato il momento... di trarre... le conclusioni... qualità costruttiva... beh... Logitech ci ha sempre abituato... al top... plastiche... comunque molto solide... e robuste... la tastiera... durante la digitazione... è abbastanza... silenziosa... il poggio a polsi integrato... ci aiuta tantissimo... durante le lunghe... sessioni di navigazione... o digitazione... di testi... per chi magari... fa un lavoro... come blog... o di scrittura... mi piace tanto... la possibilità... di avere gli RGB... che possiamo... comunque... disattivare... premendo... un singolo tasto... più avanti... nella recensione completa... vedremo... tutte le altre funzioni... vedremo anche... come modificare il layout... essendo in francese... ma questo poi... non è un problema... lo vedremo... nella... recensione completa... a questo punto... voglio sapere la vostra... che tipo di tastiera... utilizzate... fatemelo sapere... qui sotto... nei commenti... a questo punto... non mi resta far altro... che salutarvi... da Logitech G213... di Cellularitech era tutto... noi... ci vediamo in un prossimo video... ciao...